Ciao, bentornato sul canale YouTube dell'Associazione Culturale Maggiolina. In questo video ci occupiamo di videoscrittura e in particolare del formato paragrafo. Abbiamo già detto nel video precedente che il formato serve a cambiare la forma a qualcosa e in quell'occasione avevamo cambiato il formato del testo, quindi cambiato la forma alle parole facendo il grassetto, il corsivo e il colore. In questo video invece ci occupiamo del formato del paragrafo. Allora, vediamo di definire, di capire cos'è un paragrafo. Un paragrafo sono sempre parole scritte, chiaramente, quindi è formato da parole scritte, ma è formato da tante parole insieme, tante o poche. È questo il discorso. Io ho già un documento aperto, quindi ho già preparato un file, una ricetta, sulla quale andremo a lavorare per fare un esempio. E qui, nella mia prima riga, c'è scritto risotto alla pilota. Risotto alla pilota è un paragrafo di tre parole. Perché? Perché io ho scritto risotto alla pilota e quando sono arrivato alla fine sono andato a capo. Quando vado a capo, chiudo e creo un paragrafo. Quindi in questo caso risotto alla pilota è un paragrafo. Poi ho scritto una descrizione di questa ricetta, le caratteristiche dei risotto mantovani, bla bla bla, eccetera eccetera eccetera. E sono arrivato fino a territorio senza mai andare a capo. Quindi a fine riga, qui a destra, non sono andato a capo io. Ho continuato a scrivere e ho lasciato che il computer si gestisse da solo e andasse a capo lui quando arrivava al margine destro. Mentre invece sono andato a capo quando ho scritto territorio.acapo. E quello è un paragrafo. Quello che è rimasto sopra al mio a capo è un paragrafo. Per cui in questo caso ho un paragrafo di più righe. Una, due, tre, quattro, cinque. Una, due, tre, quattro, cinque righe. Quindi abbiamo un paragrafo di cinque righe. Di nuovo ho scritto modalità di cottura e poi sono andato a capo. Un paragrafo di una riga e di sole tre parole. Addirittura qui ingredienti che ho scritto e poi sono andato a capo è un paragrafo di un'unica parola. Quindi in pratica io scrivo, quando vado a capo lascio dietro di me, lascio sopra di me un paragrafo. Può essere lungo oppure no a seconda di quello che devo scrivere. Qua in fondo se faccio scorrere il testo, quando ho la descrizione della ricetta, di come si fa la preparazione della ricetta, mi trovo ad aver scritto tanto senza mai ad andare a capo e quindi è venuto un paragrafo molto lungo, se vogliamo. Ricordiamoci che non si va a capo se non serve, cioè a fine riga non è più una nostra preoccupazione quella di cercare di finire vicino al margine, di fermarci vicino al margine. Noi continuiamo a scrivere e come si dice il computer va a capo da solo quando vuole, perché questo ci ha, oltre al fatto di toglierci un pensiero, questo ci dà dei vantaggi nell'utilizzo dei paragrafi che poi scopriremo adesso. Allora, cosa posso modificare in un mio paragrafo? Vediamo, la prima cosa che si va a modificare in un paragrafo di solito è l'allineamento, cioè la posizione del testo rispetto alla pagina. Prendiamo in considerazione il nostro paragrafo risotto alla pilota, quindi quello del titolo, fatto, composto solo da tre righe. Noi vogliamo modificarne l'allineamento. Al momento questo paragrafo è allineato a sinistra. Ah, una cosa che volevo dire. Per modificare il paragrafo noi abbiamo bisogno di selezionare, come facevamo col testo prima di modificare qualcosa, abbiamo bisogno di indicare al computer cosa vogliamo modificare, quindi in questo caso quale paragrafo vogliamo modificare nella nostra ricetta. Per indicare quale paragrafo potrei semplicemente, come facciamo di solito, selezionare il testo, quindi passarci sopra e selezionare il testo, ma nel caso del paragrafo basta anche avere il cursore, cioè la barretta lampeggiante, posizionata nel paragrafo, sulla stessa linea del paragrafo, quindi il mio cursore che è qui, che lampeggia in risotto alla pilota, sta già scegliendo, sta già dicendo al computer che questo è il paragrafo che mi interessa. Potrei posizionarlo anche in mezzo e questo è lo stesso discorso, quindi anche in questo caso il mio computer sa che intenderò lavorare sul risotto alla pilota. Se invece mi sposto in questo punto, quindi il cursore che lampeggia all'interno del paragrafo più lungo, il computer lavorerà su tutto il paragrafo. Spesso però mi trovo a dover selezionare, perché delle volte desidero lavorare su più di un paragrafo e quindi, adesso ho sbagliato col mouse, e quindi devo selezionare più di un paragrafo tenendo premuto e trascinando il mio puntatore. Ecco, in questo caso che ho selezionato del testo, in pratica ho selezionato due paragrafi, il risotto alla pilota, che era il paragrafo corto, e la descrizione, che era il paragrafo lungo. Quindi le modifiche che vado, che dovessi andare a fare adesso, sarebbero applicate a entrambi i paragrafi. Tolgo la selezione. lavoriamo sul primo paragrafo, il risotto alla pilota. Lo seleziono comunque, per comodità. Ok, risotto alla pilota. Modifichiamo l'allineamento. Al momento il risotto alla pilota è allineato a sinistra, cioè vuol dire che è appoggiato al margine sinistro del mio foglio. In questa posizione ho questi tasti con delle righine e quando ci vado sopra mi dice allineamento a sinistra. Questi pulsanti gestiscono l'allineamento dei paragrafi. Il disegno, vedi che le freccine, le righe qua sono tutte allineate a sinistra, il disegno mi aiuta a capire che tipo di allineamento sto utilizzando. Quando parto a scrivere il computer è già impostato sulla sinistra e quindi è inutile che io lo prema, infatti se ci facciamo caso dei quattro pulsanti, questo è quello inserito perché ha un colore diverso, sembra schiacciato. Quindi allineamento a sinistra è già a posto. Passo a quello successivo. Le righine sono allineate su asse centrale e infatti quando ci vado sopra col mouse il computer mi anticipa e mi dice che questo è l'allineamento centrato. Lo premo, un clic, e il mio risotto alla pilota si allinea al centro. Ti faccio notare che ora il pulsante dell'allineamento a sinistra è spento e si è acceso quello dell'allineamento centrale, perché questi quattro pulsanti degli allineamenti del paragrafo sono un'opzione, uno solo di quei pulsanti può essere premuto, può rimanere inserito, perché uno solo è l'allineamento che puoi applicare al tuo paragrafo. Mentre invece quando lavoravamo su grassetto, corsivo e sottolineato, io potevo inserire contemporaneamente più formati. Comunque noi siamo all'allineamento centrato. Risotto alla pilota quindi è scritto al centro della pagina e questo è l'unico modo sicuro che hai per far sì che una frase, che una parola sia scritto in centro alla pagina, perché il computer fa un calcolo matematico. Conta quante battute ci sono nella tua riga, conta quante parole hai scritto, quante sillabe o lettere hai scritto, fa una divisione e quindi ti mette esattamente il titolo in centro pagina. Tutti gli altri sistemi o fai il conto matematico a calcolatrice come si faceva con la macchina da scrivere, oppure il testo non è in centro. Se dovessimo andare a occhio e metterlo più o meno in centro, quando è ora, quando viene stampato, non è in centro. C'è questa funzione, il centra, e quindi è molto facile da utilizzare. Abbiamo selezionato il nostro paragrafo e abbiamo premuto centra. Continuiamo con la scoperta degli allineamenti e premiamo a vedere quello successivo che dice allinea a destra e infatti nel disegno il margine destro è allineato, è diritto. Premo e in questo caso risotto alla pilota si è appoggiato al margine destro. Questo si può usare delle volte quando si fanno le date, volendo in una lettera. Quindi adesso il mio titolo, il mio paragrafo è allineato a destra e di nuovo uno solo di questi tasti è inserito l'allineamento a destra. Quindi a sinistra, ed ecco che il paragrafo si è spostato a sinistra, al centro e il paragrafo si è spostato al centro, a destra e il paragrafo si è spostato a destra. L'ultimo paragrafo, questo, dice giustificato. L'ho lasciato per ultimo, prima perché in ultimo in sequenza è l'ultimo, ma anche perché è un paragrafo particolare. Se io vado a premerlo, premo giustificato, il mio computer mi allinea il testo a sinistra. Quindi sembrerebbe la stessa cosa di allineare a sinistra, mentre invece è giustificato e vedremo tra poco cosa farà. Perché non funziona? Perché fa questa cosa? Perché in un paragrafo di una riga il giustificato non funziona, o meglio, non si vede quello che fa perché non fa in tempo a farlo. Quindi sul risotto alla pilota il giustificato non ha senso usarlo. Applichiamo il formato centrale, quindi cominciamo a dare un aspetto alla nostra lettera, applichiamo il formato centrale e quindi il risotto alla pilota diventa il nostro titolo. Adesso allora, per scoprire che cosa fa il giustificato, lavoriamo anche sul paragrafo sotto. Per lavorare sul paragrafo sotto, questo qui lungo, mi basta fare clic in un punto qualsiasi all'interno del paragrafo, il mio cursore lampeggia in una posizione centrale, ma potrebbe anche essere in fondo o potrebbe anche essere all'inizio, è lo stesso. L'importante è che lampeggi all'interno del paragrafo. Se invece volessi selezionarlo, ti ricordo che tu potresti fare 4 clic in un punto qualsiasi del paragrafo, 1, 2, 3, 4 e tutto il paragrafo viene selezionato contemporaneamente, questa cosa l'abbiamo vista nel video delle selezioni, in un video dedicato proprio alle selezioni, oppure potresti volendo selezionare passandoci sopra, partire dall'inizio e tagliare con la freccia del mouse, mentre tengo premuto il tasto sinistro, tagliare col tuo puntatore tutto il paragrafo e andare direttamente verso la fine e tutto il paragrafo viene selezionato, o viceversa, partire dal fondo chiaramente e tagliare, adesso ho sbagliato il tasto del mouse, partire dal fondo e allora tagliare e andare su all'inizio. Tengo il paragrafo selezionato per comodità, mi piace, per evidenziarlo bene. Ok, allora abbiamo i nostri formati paragrafi, al momento è allineato a sinistra, se premo quello successivo lo allineo al centro e quindi viene allineato su asse centrale, che sul paragrafo di questo tipo non è tanto bello da vedere, se fosse una poesia magari sì, lo allineo a destra, il margine destro è allineato ma non ha tanto senso e finalmente scopriamo l'allineamento giustificato. Vado a premere ed ecco qua che il mio paragrafo ora è giustificato. Cosa vuol dire che il margine sinistro è bello allineato e il margine destro anche è bello allineato, mentre prima, torno a dire il sinistro, il margine destro era tutto seghettato perché il computer era andato a capo a seconda della lunghezza delle parole. Quando premo il giustificato il mio margine destro viene allineato bello diritto. Tolgo la selezione così vediamo meglio il risultato e quindi la lettera si presenta più in ordine. Mettere il formato giustificato non è obbligatorio, non è un errore non farlo, chi ha voglia lo fa, chi non ha voglia non lo fa anche nelle varie lettere. Quindi questi sono gli allineamenti ed è un formato del paragrafo, una cosa che io posso modificare del mio paragrafo. L'allineamento a sinistra, tutto testo allineato a sinistra, al centro il testo allineato su asse centrale, a destra, testo sulla destra e giustificato e entrambi i lati destro e sinistro risultano allineati.